CERCA SCRIGNO Uliveto e Rocchetta sono acque della salute. Da quella palla di luce sono apparse più di 4.000 persone. Alcuni erano scomparsi da 60 anni. Nessuno di loro ricorda cosa gli è capitato. Ha 8 anni, però è nata nel 1938. Dovrei aver compiuto 82 anni. Mi sveglierò da questo sogno e poi lo racconterò a mio marito. Heidi, sono la mamma. Sono risposata. Nel corso degli ultimi decenni, migliaia di persone sono scomparse nel mondo. Dov'erano sbagliati? Deve essere opera di un'intelligenza superiore. Lunedì e martedì alle 21, torneranno. Sono 4.400. 8 bimbi. 8 fattinatori professionisti. Un'arena di ghiaccio. 8 coppie che dovranno sfidarsi in uno spettacolare torneo. Solo una di loro vincerà. Impegno. Competizione. Prossimamente, Rai Uno scende in pista. Notti sul ghiaccio. Bulgari. Acqua. La nuova fragranza per uomo. Nuova Toyota iGo. Tua con 50 euro al mese. Life is now. Tutti stanno parlando con tutti. È una vera rivoluzione. Con Vodafone Revolution. Dopo il primo minuto, parli gratis con tutti. Per sempre. Life is now. Vodafone. Vodafone. Quando ogni giorno significa impegno, i semplici piaceri della vita sono un regalo. Con Visa sono tuoi ogni giorno. Visa. Ama ogni giorno. Il saluto di Samsung ai giochi Olimpici. Il saluto di Samsung. Sempre. Vinci e vuoi che acceleri. Perdi e ne vorresti di più. Ferma il tempo. Oggi puoi. Classe E con Full Care Service. Tre anni di assistenza completa. Di serie. Sì, telefonati in tribù. Con essi a partire da 79 euro. Ma che te dice ste cose? I miei amici della tribù. E in più parliamo e mandiamo messaggi a solo un centesimo. Guardate se è vero. Mi lancio dal trampolino olimpico. Mi farò male. È facile di sì. Però copriti che se no prendi pure freddo. Vi ha ammazzato. Eh no! C'è stato un tempo in cui il mondo si chiamava Roma. Coupé o monovolume? Mitsubishi Grandis. Il primo coupé a sette posti. Con navigational system. Gente di Conad. Artisti nella qualità. Parmigiano reggiano Conad. Maestri nella convenienza. Confezione da un chilo, 8,90 euro al chilo. Fino al 4 marzo. Questo è Conad. In famiglia sono sempre stata io l'apatita del vivere sano. Però è stato mio fratello a fare orizzonti. La nuova pasta con dentro i cereali e i legumi. Lui lavora alla Barilla. E dice che l'ha pensata perché mi fa bene. Io la scelgo anche per il suo sapore. Tanti la pensano come me. Quando una cosa che fa bene è anche buona. Fa bene due volte. Barilla. La pasta a nuovi orizzonti. Blanks è il primo dentifricio a base di licheni artici ad azione sbiancante non abrasiva che restituisce ai denti il loro bianco naturale in soli 30 giorni. Blanks. La linea completa di dentifrici per denti bianchi di salute. Ma sei sicuro che è qui il vivere? Il ristorante. Qualsiasi informazione cerchi fidati solo del 1254 di Telecom Italia. Oggi costa meno e trovi tutto quello che cerchi. 1254, l'elenco abbonati di Telecom Italia. Chi vuole l'ultima? I freschi montorsi allungano il piacere della tavola. Scherzavo. Il palco guzzolo della montagna Con la neve a ora così Nella valle noi scenderemo Con i piedi un paio di sci sci Cerchi stabilità? Serie limitata Fiat Freeride con ESP di serie per una tenuta perfetta in tutte le condizioni. Grande punto Panda e Idea Freeride. Scoprile in tutte le concessionarie Fiat. Arriva mamma, non scondite da letto. Si cucina? Senti che bontà. Mmm, troppo buona. Eh, zucchero, cacao, latte. Cose genuine. Proprio genuina. Sembra quasi Danette. Ci ha scoperti. Danette, troppo buona? E oggi Danette ha scoperto il gusto fondente del cioccolato. Arriva Danette fondente. È troppo buona. Trovala subito. Ogni giorno ci seguite in tanti. Continuate a farlo. Abbonamento 2006. Rinnovatelo entro il 28 febbraio. La sovratassa è minima. Eravamo senz'altro oltre i 10.000 metri quando è successo. Quando la coda si è staccata nemmeno ho avuto il coraggio di guardare. Borotalco, riconoscersi a pelle. Rotoloni, non finiscono. Non finiscono mai.